C'è San Leone che scappa da Ozzo alla cittadina della Dispoli, tutti terrorizzati e a un certo punto girovagando per la cittadina, vede un bar e entra dentro. Il barista comincia un'aiuto, il leone si alza sulle zampe davanti e appoggia sul bancone e gli fa Dammi una bottiglietta d'acqua. Il barista stere fatto prende la bottiglietta e gli appoggia sul bancone e il leone con una zampa la tiene, con l'altra la stappa e se la tracanna tutta. Finito di bere il leone fa un rutto, grazie, bella fresca, quant'è? Il barista gli fa 10 euro, il leone infila una zampa nella criniera, tira fuori 10 euro e paga. Poi gli fa, è la prima volta che vedi il leone a comprarti una bottiglietta d'acqua, dice effettivamente sì, pure l'ultima, 10 euro una bottiglietta d'acqua, i mortacci posti. Grazie.